Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video sul mio canale Avete mai provato a prendere un taxi il sabato sera per andare al ristorante? Oppure per andare a un appuntamento di lavoro? Quante volte vi è capitato di rimanere a piedi o di dover aspettare anche delle ore? Mancano taxi a Milano? Oppure il sistema che non funziona? O le strade che sono sempre intasate? Sicuramente se ne trovano pochi, soprattutto quando serve L'ultimo studio che ha fatto il Comune di Milano infatti certifica questo problema Vado a leggere i dati Hanno registrato un numero di chiamate in evasi durante le serate notturne e le weekend Che non sono mai scese sotto il 40% del totale Invece durante i giorni feriali la fascia quella più critica è quella delle 18-20 Il Comune ha provato ad inserire qualche correttivo per vedere di far funzionare meglio il servizio taxi Visto che comunque è un servizio pubblico di trasporto a servizio del pubblico Hanno inserito alcuni cambiamenti Uno di questi è stata la rimodulazione dei turni Che ha consentito anche una maggiore durata dei turni di servizio di taxi Un altro invece è lo strumento della collaborazione familiare Il bando si è chiuso il 30 giugno Questo porterà un incremento di circa 100 taxi in servizio Per quanto riguarda invece la rimodulazione del servizio Ha prodotto un incremento delle ore bianche in alcune fasce dei giorni feriali Tra mezzanotte e l'una e tra le 6 e le 7 Mentre una riduzione tra le 15 e le 16 Con un piccolo di ruotura di quasi 600 auto in meno in servizio Quindi secondo il comune Tutte queste migliorie al servizio Anche in accordo con la categoria Non hanno sortito l'effetto desiderato E' per questo che il comune di Milano Tramite l'assessore alla mobilità Censi Chiederà in giunta 1000 nuove licenze Fino a 1000 nuove licenze taxi Fatta la richiesta Se la dovrà vedere con l'associazione di categoria Che chiaramente vedrà questa cosa come un possibile danno Una possibile riduzione del proprio fatturato Chiaramente essendoci 1000 taxi in più E questo tenendo conto che il numero attualmente di taxi in servizio E' sui 5000 quindi si andrebbe a 6000 Diciamo che tanti taxisti chiaramente dicono Che il problema non si risolve neanche aumentando le licenze Perché comunque su Milano gravitano 3-4 milioni di persone Anche qualche migliaia di licenze in più non fa la differenza Ma quindi com'è che si può risolvere questo problema? Sicuramente il numero di licenze maggiori E' una delle soluzioni Perché sicuramente amplia la platea di auto disponibili Un'altra soluzione per avere diciamo più auto Al servizio dei cittadini, turisti Chi viene qua a Milano per lavoro Può essere magari quella di prevedere una normativa Meno stringente per Uber Che quindi consente di avere le tariffe più competitive Come già succede all'estero Dove spesso è più conveniente usare Uber dei taxi E un'altra cosa da fare è magari prevedere intanto Minori disagi al livello di traffico Quindi ridurre l'impatto dei cantieri Ridurre la durata dei cantieri Quindi massimizzare i lavori Un'altra cercare di fare le piste ciclabili Solo dove non creano disagio alla circolazione Perché chiaramente adesso si punta alla mobilità dolce Si punta alla riduzione del traffico automobilistico in città Quindi chiaramente attraverso zone 30 Riduzione delle carreggiate Questo cosa comporta però? Che il fatto di dover creare una rete ampia di piste ciclabili Devono essere create anche in strade Dove magari sono strette Quindi non così adatte per fare piste ciclabili E che quindi tolgono quel poco spazio Che già c'è per le auto Lo si è visto in alcune situazioni Come in via forze armate Il tratto di strada che collega Che mette in connessione Utilizzata per le ambulanze Che si spostano dai due ospedali Con infinite anche di mezzi di soccorso Anche i vigili del fuoco E sicuramente quindi Una soluzione deve essere trovata Per consentire una migliore disponibilità Di servizi per i cittadini Perché chiaramente c'è la struttura portante Nel trasporto pubblico La mobilità in sharing Con monopattini Auto Biciclette Scooter E la terza gamba Diciamo è il taxi Che è un servizio Che per molti È fondamentale Il mezzo più rapido Per spostarsi Quindi Basteranno mille licenze Per risolvere il problema Riuscirà poi il comune A ottenere queste mille licenze Sicuramente il problema Andrà affrontato In maniera più ampia Anche perché Il taxi potrebbe essere usato Da più persone Potrebbe essere sostenuto Economicamente Per le tariffe Che comunque non sono Alla portata di tutti Un servizio che spesso Può servire anche Per persone anziane Che non possono essere aiutate Neanche O per i quali non c'è la disponibilità Neanche dei servizi sociali A essere accompagnate A fare visite O altre cose Di cui hanno bisogno Quindi Va fatto un ragionamento A 360 gradi Si risolverà Vedremo nei prossimi mesi Gli incontri Con le categorie Ci saranno sicuramente Incontri Tra le categorie Dei taxisti E il comune di Milano E vedremo come andrà a finire Voi cosa ne pensate Della situazione taxi? Ci vediamo nel prossimo video Grazie di avermi seguito Nella descrizione troverete I link Agli articoli Che parlano dell'argomento E a presto